Questa iniziativa è nata così un po' per caso diciamo, perché ci trovavamo a casa di alcuni amici e abbiamo assistito il primario del reparto pediatria dell'ospedale Sant'Antonio di Trapani visitare un bambino e abbiamo visto la passione e l'amore che ha messo nel visitare questo bambino per cui in noi è scattata questa voglia di poter fare qualcosa, abbiamo coinvolto tutti i soci dell'associazione e abbiamo chiesto al dottor Palmeri, quindi il primario, di che cosa potessero avere bisogno e ci hanno detto che stavano allestendo nel reparto un cucinino per le mamme che stanno diciamo in ospedale durante l'adeggenza dei loro bambini e avevano bisogno di alcuni elettrodomestici, quali scaldabibero, un frigorifero, un forno a micron quindi abbiamo coinvolto e ringraziamo tutti i soci giovani e meno giovani dell'associazione e abbiamo organizzato una cena quest'estate con i fondi che sono stati raccolti e abbiamo acquistato questi elettrodomestici. Stamattina abbiamo fatto finalmente la consegna in reparto e quindi ci preme ringraziare la dottoressa Martorana dell'ASPE di Trapani e soprattutto il dottor Palmeri che ci ha reso felici di poter fare questa donazione e rendere più facile l'accompagnamento delle mamme durante l'adeggenza dei loro bambini per poter preparare un pasto caldo o scaldare il latte o anche per loro stessi poter prepararsi qualcosa durante l'adeggenza dei nostri piccoli. Per noi è stata una grande felicità poter portare avanti il nome sempre di Simona perché era appunto una ragazza molto attenta per il prossimo e quindi speriamo in altre iniziative prossimamente che ci sono in cantiere. Infatti abbiamo fatto pure una donazione durante il ciclone in Madagascar per l'orfanotrofio dove noi siamo stati in visita diverse volte e ci saranno altre iniziative in cantiere che ci auguriamo di portare a termine nel più breve tempo possibile.